Contrasto alla brucellosi, un piano di bonifica sanitaria in funzione della prevenzione. Questi gli obiettivi del tavolo tecnico che si riunirà il 13 gennaio a Palermo per programmare come affrontare ed azzerare la brucellosi animale. Lo ha stabilito la riunione congiunta delle commissioni permanenti delle attività produttive e sanità, coordinata dal presidente della commissione attività produttive Giuseppe Lacoto. Il tema della lotta alla brucellosi animale deve essere affrontato in maniera organica. Ha affermato Lacoto, per questa ragione è necessario istituire un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero, degli Assessorati Regionali Salute ed Agricoltura, dai rappresentanti dell'Istituto Regionale Zoo Profilattico, dai medici veterinari e dalle direzioni generali dell'ASP di Messina e Ragusa. Le conclusioni del tavolo tecnico, ha proseguito il deputato regionale, dovranno essere consegnate entro 90 giorni alle commissioni parlamentari dell'ARS. Nel frattempo è necessario che la direzione generale della programmazione del Ministero della Salute concede un adderogo al tetto di spesa sanitaria per la regione, per consentire tra l'altro anche il pagamento delle attività di controllo zootecnico da parte del servizio veterinario. Per Lacoto si tratta di iniziative per tante aziende e tanti allevatori che, soprattutto nella zona dei Nebrodi, si trovano a combattere contro questo morbo che negli ultimi anni è tornato a manifestarsi con violenza. Bisogna inoltre, in funzione della prevenzione, predisporre un vero piano di bonifica sanitaria e un approfondimento diagnostico per i casi di tubercolosi rilevata dal macello.